ciao a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video oggi parlerò degli ultimi acquisti ecco un dopo barba classico denim muscolo provato oggi è un po datato però ragazzi devo scegliere fra ax africa che un veramente un ottimo dopo barba però costava 10 euro questo costava 7 euro praticamente come come odore è più mascherino questo e infatti ho preso questo però è più datato ragazzi cioè sui 30 anni già va benissimo giovane meglio ax va bene ragazzi poi vi saprò dire meglio su questo dopo barba già l'ho provato il leo de tolette ed è molto persistente molto mascolino a presto